psss ma te o che ma che sei io e tu ciao ecco che ho detto di petti hanno detto di pettinarti e ma non è lo stesso è lo stesso ho comprato uno sei pronto basta stare sei pronto per cosa è certo che sono pronto stavo scrivendo le ultime le ultime cose da da dire sono pronto perché è anche poi ma con la giornata domani sera si inizia giusto domani sera domani iniziamo con la nostra trasmissione la nostra trasmissione e che si intitola e allora lo sentiero studiato ma è una trasmissione originale ma dai ma ma nemmeno il titolo è lungo è lungo quando via con fabio viaggi a teo bartoli eo bartoli quando da domani sera mercoledì 18 marzo perché il 18 marzo alle 19 e 15 precisi in punto su su facebook non so se anche facebook instagram sui social possibili assolutamente possiamo anche dire sul canale 828 la piattaforma sky tanto non guarda nessuno assolutamente e quindi da lunedì a sabato domenica vediamo anche perché la domenica c'è troppo da fare io mi voglio dire troppo da fare cosa accade durante la trasmissione di tutto non lo svegliamo veramente non lo svegliamo anzi adesso spieghiamo numerosi dai tanti numerose almeno in sei originale da mercoledì sera quando è va bene va bene poi poi spieghiamo anche il perché abbiamo scelto che inovola diretta ciao ciao Bene domandi la saliamo ornati Grazie a tutti.